Non è una novità assoluta ma l'annuncio è di quelli importanti. L'anno prossimo Pescara e il trofeo Matteotti si candidano per ospitare i campionati italiani crono e su strada. Il circuito cittadino, dicevamo, non è nuovo a simili onori. Già tre volte, 1965, 75 e 95, la corsa fu prova unica del campionato italiano, edizioni vinte rispettivamente da Dancelli, Moser e Bugno. La bella notizia è comunque il modo migliore per lanciare la 67esima edizione della classica internazionale pescarese in calendario il 28 luglio. Quello che vedete è il nuovo logo scelto degli organizzatori. Il tutto quando al timone della corsa torna in prima persona Renato Ricci, che lo scorso anno aveva lasciato l'incombenza a Palmiro Mascerelli. Un ritorno al passato dunque per certi versi naturale, visto che l'imprenditore pescarese ha guidato il Matteotti per 16 anni. Altra idea che frulla nella testa degli organizzatori riguarda l'istituzione di un premio speciale da assegnare probabilmente su un traguardo volante o sul Gran Premio della Montagna, denominato Grande Pescara, un omaggio al progetto di area metropolitana pescarese che comprende i comuni del Capoluogo e Montesilvano, su cui insiste il circuito. Negli ultimi giorni sono già incominciate ad arrivare le prenotazioni delle squadre, che saranno 16 in totale. Si sta cercando di convincere due team pro tour, la Cannondale e la Lampre. A livello di singoli il colpo era di portare in corsa Vincenzo Nibali, il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, però, sarà impegnato al Giro di Polonia. Per lo stesso motivo non sarà della corsa l'abruzzese Dario Cataldo. Molta attesa per il team abruzzese toscano Vini Fantines e l'Italia, che schiererà gli abruzzesi Matteo Rabottini e Fabio Taborre. La squadra giallofluosi è aggiudicata alle ultime due edizioni, con Oscar Gatto e Pierpaolo De Negri sotto le insegne farnese, e punta decisamente al Tris. Il percorso è il collaudato circuito di 14,5 km Mare-Monti, da ripetere 13 volte per un totale di 195 km. Le operazioni preliminari della carovana quest'anno tornano presso l'area dell'ex stazione ferroviaria, quindi ci sarà l'incolonnamento e la passerella lungo la riviera fino a Piazza Duca, sede di partenza e di arrivo. La presentazione ufficiale della nuova edizione è il mercoledì o il giovedì precedente la corsa.